a vent'anni più o meno ho lavorato per un paio d'anni come agenti immobiliari insomma da ragazzo se da geometra trovavo lavoro che trovavo e in questa agenzia immobiliare il titolare dell'agenzia che è un altro ragazzo con qualche anno in più era una persona molto gentile molto melliflua insomma la sua tecnica da venditore non era certo diciamo l'aggressività ecco era più che altro la lusinga magari no? faceva pinta di essere dell'Atalanta se vedeva la bandiera dell'Atalanta a casa del cliente insomma o di destra o di sinistra secondo delle necessità ecco questa persona che era una persona che faceva corsi di dinamica mentale che cos'erano? sono corsi dove la persona questa persona quando tornava a casa con calma come in una meditazione usando una successione dei colori scendeva in uno stato profondo no? meditativo in questo stato ipnagogico visualizzava la sua stanza sempre uguale con la sua scrivania sempre uguale con i suoi cassetti sempre uguali e dentro questi cassetti metteva delle cose poi immaginava nella simulazione di sedersi alla sua scrivania aprire il cassetto tirare fuori un contratto appoggiarlo sulla scrivania poi far entrare da una porta il venditore che lui conosceva chiaramente no? nella sua visualizzazione far entrare dalla porta l'acquirente a cui magari aveva fatto vedere la casa nel pomeriggio e lì immaginava mentre si salutavano cordialmente affettuosamente si abbracciavano dove tutti insieme in amore sottoscrivevano il contratto e vendevano la casa questo lo faceva per indurre il campo sottile per indurre appunto il potenziale acquirente durante la notte a svegliarsi con la sensazione che in fondo quel venditore è una brava persona che quella gente può invidare una brava persona che quella casa è la casa della sua vita perché lo farà felice e tutte queste sensazioni in queste tecniche si tentava di indurle chiaramente attraverso una meditazione a distanza quindi un'influenza a distanza psichica questa persona appunto gentile e tutto il resto quando un ragazzo che era molto spregiudicato era bravissimo a vendere ma era un bugiardo terribile anche simpatico ma bugiardo terribile lui si metteva a guardare i necrologi del paese perché diceva se c'è qualcuno che è appena morto ci sarà chiaramente una successione testamentaria e quindi è facile che i suoi parenti magari figli eccetera con questa vecchia casa che spesso erano anche appartamenti importanti che erano rimasti impegnati perché c'era un anziano per tutto questo tempo che non vendeva poi ad un tratto magari in centro storico magari in posizioni utili questi appartamenti potevano essere venduti quindi erano anche preziosi e gli agenti immobiliari alcuni avevano soliti andare a spulciare i necrologi per poi in maniera menzognera dire buongiorno ci hanno detto che forse c'è una casa in vendita e a me stesso è capitato di fare questa cosa da ragazzo sentendo magari la figlia dire ah ma lei come l'ha saputo? gli ho detto guardi faccio di lavoro scusi se può sembrare invadente ma mi sembra che allora ho trovato la persona giusta e lei che vende? no guardi in realtà è mia madre però è appena morta ah beh ci mancherebbe condoglianze comunque tenga conto che se vuole anche farsi una valutazione una stima di quanto vale l'immobile ci chiami in qualunque momento ti chiamavano e mettevi in vendita la sua casa quindi gli agenti immobiliari facevano questa cosa no? ma quando il titolare dell'agenzia vedeva questo mio collega guardare i necrologi diceva no, noi queste cose da sciacalli non le facciamo quindi volevo così fare una riflessione assieme che vent'anni fa vent'anni fa era normale nella Bergamasca considerare comunque immorale è un'azione immorale ma non immorale tanto immorale persino talmente immorale che anche una persona che nel suo abituale modo di intendere la professione accetta di ipnotizzare e di fare pressione psichica durante il sonno all'acquirente cioè quella cosa qui la concepiva ma no guardare i necrologi no ecco riflettevo su questo cioè che questo guardare i necrologi è una cosa che oggi invece viene fatta continuamente in una maniera non una volta ogni tanto no no tutti sempre perché voi potete vedere per esempio su facebook se per caso vi muore un parente voi vedrete il vostro internet cioè tutto internet non solo facebook riempirsi di banner di pompe funebri proposte su come inumare il defunto la salma e tante altre cose profilate per chi appena si trova nella condizione che appena morto qualcuno quindi il venditore di allora cioè noi eravamo considerati degli sciacalli ad un livello di sciacallaggio altissimo perché anche tentare di indurre mentalmente la persona a fare una cosa era accettata ma guardare i necrologi era da sciacalli oggi invece è diventato abbiamo alzato molto questa soglia e per noi è diventato non solo normale ma anche auspicabile stiamo tutti investendo in sistemi digitali che siano in grado di fare questo tipo di sciacallaggio in maniera ancora più accurata quindi nel momento in cui ti lascia la ragazza ti devono arrivare tutti i siti di dating per andare a cercarti la tipa tutti i porno tutte le cose che hanno a che fare con questo tipo se sei un uomo se sei una donna ti proporrò di fare i film pornografici ti proporrò di metterti la webcam a casa per farti vedere nuda ti proporrò tutta una serie di cose compresi i siti di incontri che hanno bisogno di belle ragazze perché sennò nessuno vuole farsi un corpo brutto cioè farsi proprio meglio che me la faccio non la trombo ecco quindi questa cosa qui è un'evidenza c'è un lack of dignity ok? cioè l'essere umano in vent'anni è riuscito ad abbassare il mio senso etico per esempio era disgustato dall'atteggiamento del mio capo che voleva manipolare mentalmente le persone anche perché io ho capacità di questo tipo e sin da bambino non ho mai avuto un problema di questo tipo perché non lo sto usando per manipolare ma per persuadere quindi se c'è una persona che in quel momento è molto triste posso tirarla lassù convincendola che c'è qualcosa questo mio figlio quando era bambino e piangeva lo guardavo e gli passava di colpo e usavo le mie capacità comunicative per farlo adesso che sto parlando sto tentando di comunicarvi non soltanto il concetto ma anche il sentimento che c'è dietro quindi una metacomunicazione per quanto sia difficile attraverso ovviamente un filmato ecco questo lack of dignity è progressivo esponenziale e secondo me richiede una profonda riflessione e attenzione da parte di tutti gli esseri umani di tutte le persone escludo ovviamente tutti i personaggi cioè tutte quelle persone che come propria identità hanno eletto qualche tipo di ideologia personaggio, genere, qualcosa di questo tipo entrando in uno stato allucinatorio vi saluto fate like e condividete grazie 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 grazie